ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale io sono Giorred e oggi parliamo del grande fratello vip vediamo chi è stato eliminato è andata in onda una nuova puntata del grande fratello vip e uno dei momenti più attesi è stato sicuramente il risultato del televoto tre erano i vip al televoto ed erano Antonio Miriana e Nathalie e proprio quest'ultima è l'eliminata di ieri sera Miriana si è portata a casa il 51 per cento del consenso dei voti Antonio invece il 30 mentre Nathalie va via con il 19 per cento dei voti Nathalie quindi ha lasciato definitivamente la casa più spiata d'Italia e voi siete contenti di questo risultato scrivete nei commenti e ditemi la vostra per il momento concluso il video se vi va iscrivetevi al mio canale per altre news un grosso abbraccio da Giorred ciao ciao ciao